L'ispettore dell'ATS arrestato ad Albino avrebbe costretto il titolare di Umbara a consegnare indebitamente 300 euro colto in flagranza di reato ancora in possesso delle banconote. A Clusone si avvicina la decisione per la caserma dei Carabinieri, intanto l'amministrazione ha pronto un piano B, dalla minoranza invece la proposta di realizzarla ex novo. Strapidi affreschi, disegni, quadri, sculture, la ricca collezione di opere donata da Don Nicola Morali alla parrocchia di Clusone arricchirà il Museo della Basilica. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. In apertura alla cronaca, infortunio sul lavoro in mattinata a cena, l'incidente è costato a un uomo di 59 anni l'amputazione di un dito. Tutto è accaduto poco dopo le 11 in una ditta di via caduti. Da quanto si è potuto sapere, l'uomo stava lavorando al tornio quando il guanto di protezione che indossava si sarebbe impigliato nella macchina. La mano dell'operaio sarebbe così finita negli ingranaggi, subendo l'amputazione di un dito della mano sinistra. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Colzate. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Alzano. E adesso un'altra notizia, lo avete sentito dai titoli. Un uomo di 63 anni, residente in provincia di Bergamo, è stato arrestato dalla polizia stradale con l'accusa di concussione. L'uomo, ispettore del Dipartimento di Prevenzione Medico Area Igiene Alimenti e della Sicurezza Nutrizionale della TS, l'ex ASL, avrebbe abusato della sua qualifica costringendo il titolare di un esercizio commerciale di Albino a consegnargli indebitamente 300 euro durante un controllo. Il 63enne è stato colto in flagranza di reato, ancora in possesso delle banconote. Subito dopo l'arresto è stato condotto in carcere a Bergamo a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ufficio Polizia Giudiziaria della sezione Polizia Stradale di Bergamo sta svolgendo le opportune verifiche per capire se si tratta di un caso isolato o se ci sono stati anche altri episodi simili. Cambiamo argomento, il 12 dicembre l'Assemblea della Comunità Montana voterà sullo scambio di immobili con il Comune di Clusone per costruire la nuova caserma dei Carabinieri. Ma l'amministrazione Baradella ha in serbo anche un piano B. Sentiamo il sindaco Paolo Olini al microfono di Andrea Filisetti. Ecco poi all'orizzonte c'è l'incontro in Comunità Montana con il quale decidere o meno questo scambio tra enti per la realizzazione della caserma. Ma voi avete pronto anche un piano B? L'ho già segnalato in quella seduta. È un piano che è sempre stato nel cassetto. Visto le criticità che tanti sindaci hanno posto all'attenzione, il valore dell'immobile, la permuta, la localizzazione della nostra palazzina dell'As, definita non positiva, credo che a questo punto si debba lanciare a tutti i sindaci o almeno ai 20 sindaci dell'Alta Valle Seriana la possibilità che veramente sia la Comunità Montana a seguire l'intervento con l'aiuto del Comune di Clusone e quale ente capofila della situazione, proprio perché almeno evitiamo tutte queste criticità che continuano a mettere in polemica e in posizione non stabile quello che è un obiettivo importante che è quello della realizzazione della caserma. Quindi il piano B potrebbe essere da valutare assieme a tutta l'Assemblea, al Presidente di Comunità Montana col quale ho già avuto più di un incontro su questa situazione, proprio per dire Comunità Montana diventa lì la zona dove fare la caserma ma segue lei l'intervento anche a livello di finanziamento. Questo eviterebbe al Comune di Clusone comunque di dover sostenere un mutuo di 800 mila euro e dover permutare un immobile. Ritengo quindi che qui i tempi si restringano veramente ma che sia venuto il momento veramente che nell'Assemblea del 12 di dicembre ci si esprima su questa volontà di realizzare lì la nuova caserma dei Carabinieri. Poi il Comune di Clusone mette a disposizione comunque i tre immobili che aveva già messo a disposizione prima per poter svolgere l'attività di Comunità Montana in altri edifici. Quindi la disponibilità a mantenere la Comunità Montana sul territorio di Clusone c'è ma la voglia di vedere realizzata la caserma dei Carabinieri sul territorio di Comune di Clusone ci deve essere da parte almeno dei 20 sindaci dall'Alta Valle Seriana. Della caserma dei Carabinieri si è parlato ieri sera anche durante il Consiglio Comunale di Clusone dal gruppo di minoranza Clusone Viva la proposta di realizzare l'immobile ex novo. Sentiamo. Ecco parlando di allineazione questa sera è stato riaperto il tema relativo alla realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri e lei ha ricordato quello che voi avete già comunicato nel giugno del 2016. Sì e di cui siamo ancora più convinti ad oggi con i numeri e con i dati che poi si sono svolti in questi mesi. Vale a dire la realizzazione della caserma dei Carabinieri assolutamente sì perché anche noi come tutti i sindaci della zona siamo ovviamente interessati e abbiamo questo desiderio che la caserma venga realizzata e rimanga a Clusone e che abbia anche una sede idonea e non certo una sede come quella attuale che l'età appunto ha portato poi a essere in cattivo stato. La nostra idea quindi che confermiamo è quella che venga realizzata ex novo su un territorio di proprietà del comune di Clusone vale a dire un terreno che è in prossimità della rotonda di Viale Europa per cui anche dal punto di vista viabilistico strategico perché può comunque lasciare questa possibilità di uscita su tutte le direzioni senza causare problemi di traffico e comunque problemi anche di pericolosità che la via Sant'Alessandro invece ha quindi al quadro economico attuale che abbiamo capito agirarsi attorno ai 2 milioni 800 mila euro devono essere aggiunti anche i costi di realizzazione della nuova bretella che quindi consenta un flusso e un deflusso dei mezzi dei Carabinieri dalla sede quella che sarebbe di Comunità Montana. Anche perché in aggiunta cosa si crea? In questo momento Comunità Montana ha una sede messa a nuovo molto importante che oltre agli uffici di Comunità Montana ha anche come destinazione quella della sede di protezione civile che si sono insediati ormai più di un anno e mezzo fa che quindi sono lì belli assestati e quindi stanno facendo un ruolo importantissimo, svolgendo un ruolo importantissimo per il nostro territorio con il deposito mezzi anche lì vicino. Oltre a questi ci sono anche altre funzioni quali le guardie ecologiche. Quindi noi riteniamo alla luce dei dati che appunto vengono forniti in questo momento che la realizzazione ex novo possa essere la soluzione ideale anche con un confronto dei costi. Un ultimo spunto che ci permettiamo di dare sarebbe quello di chiedere comunque una verifica, un interpello alla Corte dei Conti che tutta questa operazione però sia legittima perché sul fatto di permutare comunque degli immobili, sul fatto di spendere delle risorse a favore punte della realizzazione della caserma che è una funzione prettamente dello Stato centrale appunto noi vorremmo essere rassicurati anche da un organo come la Corte dei Conti che sia tutto conforme e che sia tutto legittimo. Ancora una cerva investita da un'auto tra Clusone e Rovetta. Questa volta l'incidente si è verificato lungo la strada provinciale che collega i due paesi. Poco dopo le 19 di ieri un Audi diretta verso Clusone ha travolto e ucciso l'animale. Il conducente se lo sarebbe trovato di fronte all'improvviso senza possibilità di evitare l'urto. L'impatto è stato piuttosto violento, l'incidente si è verificato al confine con Rovetta in un punto dove la strada non è illuminata. L'auto è rimasta seriamente danneggiata nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Un mese fa, lo ricordiamo, un'altra cerva era stata investita tra Clusone e Rovetta, questa volta lungo la strada interna nella zona della Conca Verde. Proseguiamo col nostro Tg cambiando decisamente argomento. Sono numerose le iniziative che il Centro Missionario Diocesano propone per le feste natalizie. Scopriamone di più. Affidati alla Stella per essere missionario di pace è il titolo della campagna natalizia del Centro Missionario Diocesano. E ci sono tre progetti importanti che volete sostenere. Entriamo proprio in questo contesto del Natale dove il Signore desidera nascere in ogni uomo. Ed è per questo che il Centro Missionario Diocesano ogni anno vuole entrare in punta di piedi nelle nostre case per affidarci alcuni progetti di attenzione all'uomo e alla donna, soprattutto l'attenzione ai ragazzi, che sono il futuro dell'umanità, che sono il futuro della Chiesa. Quest'anno vorremmo accompagnare e aiutare tre progetti. Un progetto vicino a noi, a Nembro, il cortile di Osana. E poi un progetto in Colombia e un progetto in Terra Santa. Per dire che tutti noi, vicini e lontani, siamo chiamati ad aprire il nostro cuore, ad aprire la nostra attenzione e anche la nostra curiosità su quello che è il mondo, su quello che sono le nostre povertà. Vi invito quindi ad aprire gli occhi, ad ascoltare questo Signore che viene e ad essere anche generosi con l'attenzione e con l'ascolto per aiutare questi progetti. Ci occuperemo della campagna e dei progetti del Centro Missionario Diocesano anche questa sera a Decoder. Nel corso della trasmissione interverranno Don Andrea Mazzoleni, vice direttore del Centro Missionario Diocesano, Serena Rondi del Giardino di Ozanam e Federica Buelli, volontaria del Centro Missionario. La trasmissione andrà in onda alle 20.30, le repliche domani alle 14 e venerdì alle 23.30. Bartolomeo Fachino de Bergamo, testa de cionpo, è il titolo curioso della serata in programma domani a Premolo e dedicata alla figura del condottiero Bartolomeo Colleone. A Premolo nei prossimi giorni sono in programma diversi appuntamenti. Sì, un po' per prepararci al Natale, diciamo così, già da giovedì 7 dicembre presso le scuole elementari di Premolo ci sarà una serata in ricordo della figura di Bartolomeo Colleoni tenuta da Piero Marcellini e da Matteo Balduzzi e va a riscoprire, diciamo così, una figura di un personaggio storico molto importante per tutta la nostra bergamasca e non solo, andando a valutare tutto il periodo storico del 1400. Nei giorni successivi, quindi l'8 e il 9 di dicembre si terrà la quarta edizione del Magico Natale di Premolo quindi organizzata dall'amministrazione comunale, dalla parrocchia e da tutte le associazioni di Premolo queste giornate con mercatini di Natale, intrattenimento per i bambini, tutta una serie di spettacoli che vanno dalla falconiera e si terrà venerdì pomeriggio sempre venerdì 8 la sera ci sarà lo spettacolo di sabbia luminose molto interessante, molto particolare nella giornata di sabato 9 di dicembre ci sarà invece lo spettacolo dello scultore Flavio Favaro scultura in legno, quindi con la motosega sempre molto particolare ma molto interessante e la sera in parrocchia ci sarà il concerto del gruppo Alpini di Ardesio tutta una serie poi di intrattenimenti come dicevo per bambini ci sarà lo spettacolo di Babbo Natale la mostra dei libri antichi che si terrà presso la sala consigliare al comune di Premolo cucina per tutti a buffet aperta in tutte e due le giornate quindi una bella occasione per trovarci tutti insieme in questi mercatini, in questo Magico Natale di Premolo e vi aspettiamo numerosi a Premolo quindi continua Intervistabili 2.0 la rubrica frutto della collaborazione tra Cooperativa Sottosopra e Antenna 2 quest'anno i nostri inviati, i ragazzi del CSE di Ponte Selva vanno alla scoperta delle aziende del territorio la prossima puntata in onda domani alle 19 sarà dedicata alla scame di Parre vediamone un'anteprima quando è nata e da lì è stata fondata la scame? allora scame è stata fondata nel 1963 dal signor Giovanni Scainelli e da tre suoi amici Luigi Piccinali e i fratelli Gianni e Cornelio Palamini è nata nel 1963 quindi l'anno prossimo per noi sarà una data importante perché festeggeremo il nostro 55esimo anniversario scame nasce da un'idea molto semplice dalla produzione di questo prodotto un chiodino isolato e da questo prodotto dietro il quale ci stava un'idea semplice ma vincente è stata capace nel corso dei suoi più di 50 anni di vita di sviluppare un portafoglio prodotti molto importante che arriva a contare circa 20.000 referenze che cosa si produce alla scame? in scame si producono tante cose dicevamo poco fa di questi 20.000 prodotti sono tutti prodotti nel campo dell'elettrico quindi componenti e sistemi per impianti elettrici per diversi utilizzi diversi scopi quindi si va dal prodotto che utilizziamo normalmente nelle nostre case fino a prodotti industriali anche per applicazioni molto gravose molto impegnative quello che è importante sottolineare è che scame nel concepire e nel produrre i propri prodotti segue sempre delle linee guida a cui non abbiamo mai rinunciato e non intendiamo rinunciare quindi il discorso sicuramente della qualità del prodotto ma anche il discorso dell'ecocompatibilità dei nostri prodotti quindi nel produrli ovviamente seguiamo tutta una serie di accorgimenti a livello produttivo e per quanto riguarda il prodotto in sé andiamo a scegliere anche tutti quei materiali che ci permettono di ridurre al massimo l'impatto ambientale dei nostri prodotti Progetti futuri? Progetti futuri un impegno sicuramente che ci siamo dati è quello di continuare sulla strada dell'innovazione che abbiamo imboccato come dicevo prima in maniera sempre più decisa negli ultimi anni anche perché è un volano che una volta che è innescato è impossibile fermare quindi sicuramente senza trascurare quella che è la nostra offerta standard di prodotti su cui comunque l'azienda continua a investire sicuramente verranno indirizzati tanti sforzi nell'ottica di offrire prodotti sempre più innovativi e sempre più ad alto valore aggiunto nel far questo sicuramente continueremo a perseguire le nostre politiche di rispetto per l'ambiente assolutamente fondamentali per l'ambiente e la persona persona che può essere intesa in mille modi il dipendente per esempio scama una certificazione apposita che certifica la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro persona che può essere intesa benissimo anche come cliente e da qui l'impegno di Scame a fornire prodotti sempre più sicuri sempre più fruibili sempre più facili da usare Maschere in Bergamasca il titolo del calendario 2018 presentato nel palazzo della provincia mese per mese foto con le maschere di Franz Cancelli alcune immagini sono state scattate anche a Grono diciamo l'idea l'ho un po' rubata a Venezia che anni fa si è proprio campata con i calendari sul carnevale ambientati a Venezia tanto è vero che ci sono finito tante volte anch'io senza neanche permesso però io volevo invece essendo bergamasco doc le mie maschere sono tutte nate a Bergamo proprio in centro volevo anche perché essendo mi accorto che le mie maschere si abbinavano bene con l'architettura infatti anche la docente dell'Università Testa Verde ha notato che le mie maschere vivono in base proprio a dove si inseriscono quindi Bergamo ha anche dei bellissimi luoghi e quindi trovo anche giusto valorizzarli in questo modo cioè poi creando maschere adattabili quindi Bergamo è provincia perché qui nel calendario c'è una piccola parte di Cattabergamo ma abbiamo tentato anche di andare al lago di andare in montagna di andare in pianura i castelli quindi abbiamo ampliato un po' e credo che si possa anche la possibilità di fare ancora altri posti perché abbiamo escluso ne abbiamo messo una dozzina ma ne abbiamo escluse tanti altri però è stata un po' una prova un tentativo anche col Ducato che è la prima volta con cui facciamo un calendario con la provincia uguale sperando poi che venga anche perché poi con queste maschere creiamo anche spettacoli e diciamo creare anche gli spettacoli ad hoc in base non so a un castello a una villa veneto o qualcosa poi si possa creare anche un interesse poi la gente fotografando poi rimane perché è una cosa che bisogna anche un po' ricordare che oggi tutti fotografano tutti fanno i filmini poi sono cose che poi veicolano poi il turismo il paesaggio quindi sarebbe una cosa penso anche da sfruttare ormai sono in pensione potrei anche non ho voglia di ritirarmi ho tentato quest'anno di ritirarmi quello spettacolo di addio ma vogliono che continui però bisogna anche un pochino darsi da fare credo la provincia ha sostenuto la pubblicazione di questo calendario con entusiasmo ottime immagini non solo dalle maschere di Franz Cancelli che sono eccezionali ma angoli suggestivi del territorio bergamasco un po' tutta la bergamasca viene evidenziata con splendide fotografie e secondo me una valenza culturale e anche turistica per cui la provincia ha raggiunto questo duplice obiettivo è un'occasione un'occasione per la valorizzazione del nostro territorio ci fermiamo per una pausa al rientro parleremo di Mobike il nuovo servizio di scambio di biciclette che è approdato da alcuni giorni a Bergamo e poi andremo a Clusone per un'importante novità che riguarda il Museo della Basilica a tra poco riprendiamo col TG è stato subito un successo l'arrivo di Mobike a Bergamo in questi giorni le biciclette a flusso libero si vedono un po' ovunque in città il servizio funziona con una app grazie alla quale si può individuare le biciclette disponibili un sistema di crediti premia poi chi utilizza in modo corretto le bici e punisce chi viola le regole vediamo l'arrivo di Mobike a Bergamo è un passo in più nella direzione di un cambiamento della mobilità mobilità sostenibile noi speriamo che sempre più persone scelgano di usare la bicicletta e questa idea che arriva dalla Cina che porterà 500 biciclette in città ha molte probabilità di essere davvero una piccola rivoluzione perché le biciclette non avranno più bisogno di essere prelevate lasciate nei parcheggi ma possono essere prese e lasciate ovunque sono biciclette il cui costo è minimo pochi centesimi per mezz'ora e che sono molto resistenti come si potrà facilmente verificare siamo la quarta città in Italia è un segnale di attenzione da parte del mercato nei confronti di Bergamo che evidentemente è vista come una città particolarmente disponibile alle innovazioni soprattutto in questo campo siamo arrivati a Bergamo dopo una sperimentazione di qualche mese in città un pochino più semplici come Milano e Firenze soprattutto Milano che ha già un sistema di bike sharing consolidato per noi era un po' la città ideale di partenza ora dopo aver fatto questa palestra siamo pronti a Bergamo che ha un grosso vantaggio perché ha una densità molto alta della popolazione quindi maggiore la densità migliore l'utilizzo del bike sharing però ha una complessità intrinseca legata alla presenza della città vecchia e quindi una zona collinare molto pronunciata che rende un po' più difficile l'implementazione del servizio come stiamo gestendo questa criticità semplicemente mettendo tante biciclette sopra e tante biciclette sotto così non si devono spostare da una parte all'altra ma si muovono liberamente o nella città vecchia o nella città nuova poi ci saranno delle biciclette che scenderanno perché in discesa chiaramente è un po' più semplice che in salita e quindi noi le riposizioneremo fisicamente con dei van che portano delle biciclette dal basso verso l'alto adesso abbiamo 500 biciclette autorizzate per una fase di test poi la città ne può recepire molto di più perché considerate che noi calcoliamo una bicicletta ogni 50-100 abitanti quindi è una diffusione molto più ampia però è importante fare una prima fase di sperimentazione per aiutare anche alla città i cittadini i comuni le associazioni a convivere e capire come funziona questo sistema che ha poi il potenziale di cambiare in maniera significativa quello che è la mobilità sostenibile all'interno della città però la città deve imparare un pochino a convivere con l'innovazione tempo di Open Day questo per le scuole del nostro territorio domani giovedì 7 dicembre toccherà all'istituto Valle Seriana di Gazzaniga aprire le porte a ragazzi e famiglie l'appuntamento è alle 17.30 nella palestra della scuola dove il dirigente Alessio Masserini e i suoi collaboratori presenteranno l'offerta formativa dell'istituto voltiamo pagina strappi diafreschi disegni quadri sculture è la ricca collezione di opere donata da don Nicola Morali alla parrocchia di Clusone e che arricchirà il museo della basilica vediamo mino questa sera diamo un appuntamento un appuntamento con l'inaugurazione con una mostra molto importante si tratta dell'inaugurazione di una sezione del museo della basilica che è tutta dedicata alle opere che don Nicola Morali ha donato alla parrocchia si tratta di opere pittoriche su tela a freschi ma anche disegni di varie botteghe clusonesi e anche opere scultore e sbalzi sono 83 opere che don Nicola ha donato alla parrocchia di Clusone che vengono allestite in maniera permanente qui nel secondo piano del museo nelle tre sale che vengono dedicate a questo straordinario l'ascito bisogna ricordare che don Nicola è a Clusone dal 51 prima come direttore dell'oratorio poi dal 61 come custode cappellano del santuario del paradiso quindi ha svolto il suo ministero sacerdotale per più di 60 anni a Clusone e tuttavia don Nicola è stato un uomo di cultura straordinario amante della storia amante dell'arte clusonese e ha dato un apporto straordinario alla conoscenza della storia e dell'arte della nostra città sia con le sue pubblicazioni numerose pubblicazioni cito Clusone ricerca impressioni i baradelli la bellissima ricerca sulle famiglie clusonesi ma anche libri dedicati alle chiese di Clusone la basilica al paradiso quindi ha dato un straordinario apporto alla conoscenza della nostra ma ha patrocinato restauri nella sua permanenza al paradiso ha arricchito la chiesa del pariso con nuove opere oltre a patrocinare restauri delle opere che già esistevano insomma un uomo che ha dato un straordinario apporto alla cultura clusonese oltre naturalmente ad essere un sacerdote straordinario della sua missione pastorale a Clusone e queste opere sono state raccolte qui e verranno mostrate al pubblico l'8 di dicembre nel pomeriggio con l'inaugurazione di questa sezione del museo e successivamente con la visita guidata a queste opere che si ripeterà poi il sabato e la domenica sempre nel pomeriggio alle ore 16 si tratta di opere straordinarie dalle opere pittoriche ricordo opere di pittori clusonesi come Querena ma anche come Cifrondi ma anche opere importanti come Madonna della cintura di Francesco Cavagna ma opere come l'Immacolata del Piccio oltre naturalmente la straordinaria raccolta di disegni delle botteghe dei nani e dei brighenti di Clusone L'inaugurazione della sezione del Museo della Basilica di Clusone dedicata alla collezione di Don Nicola Morali è in programma venerdì giorno dell'Immacolata alle 15.30 A Don Nicola il ringraziamento a nome della comunità dell'arciprete di Clusone Monsignor Giuliano Borlini sentiamo La donazione da parte di Don Nicola di numerose opere d'arte diventa per tutta la comunità l'occasione per dirgli grazie per questo gesto in un certo senso inaspettato sorprendente ma anche per tutto quanto egli ha compiuto nella nostra comunità in 65 anni e più della sua permanenza in mezzo a noi sicuramente Don Nicola è una figura di riferimento per tantissime famiglie per tanti ammalati che trovano veramente hanno trovato in lui veramente sempre una persona un sacerdote che con parola sicura con parola incoraggiante è stato presente nelle varie situazioni liete e triste della comunità e allora la sua presenza in mezzo a noi è sempre stata una presenza veramente di grande generosità il suo ministero e questo gesto lo dimostra anche adesso questo il suo ministero è stato sicuramente di grande vicinanza di grande amore all'interno della comunità soprattutto diciamo nella chiesa del paradiso che è stato il luogo nel quale lui ha svolto prevalentemente il suo ministero allora la nostra riconoscenza profonda nei suoi confronti e anche così l'augurio che gli poniamo di continuare ancora a svolgere in mezzo a noi la sua attività certamente in forma più ridimensionata ma ma un'attività preziosa e la riconoscenza diventa anche un motivo per così visitare e ammirare queste opere che lui ha lasciato come testimonianza d'amore nei confronti della nostra comunità grazie dunque Don Nicola e l'invito veramente a tutti anche così a esprimere la riconoscenza nei suoi confronti venendo appunto a visitare queste opere che oltretutto esprimono un amore anche per la bellezza presente nella nostra comunità che grazie a lui ha potuto conservarsi tanti di queste opere sarebbero sicuramente andate perdute se Don Nicola non se le fosse fatto carico grazie dunque Don Nicola e tanti auguri una breve pausa e poi la parte finale verso la fine del TG apriamo la nostra pagina degli auguri che oggi è dedicata a Simone Scandella di Fino del Monte che compie dieci anni da mamma e papà e dalla sorellina Sara tanti auguri di buon compleanno tanti auguri anche da parte di Antenna 2 e adesso i programmi sulla nostra emittente questa sera sul canale principale alle 20 e 30 Decoder alle 21 e 30 la rubrica più salute news alle 22 la rubrica 15 minuti alle 22 e 30 la seconda edizione del TG alle 23 e 15 la rubrica di sport invernali Ski Magazine il canale News 218 alle 21 e 30 il telegiornale alle 22 e 10 l'anteprima Target questa sera dedicata alla presentazione dello studio sugli effetti e del prolungamento della Teb fino a Vertova il canale sportivo 628 alle 20 e 30 il programma di motori Bob Gear Edition alle 22 e 30 la partita di calcio Vertovese Forza e Costanza l'Almanacco domani è giovedì 7 dicembre il sole sorge alle 7 e 42 e tramonta alle 16 e 41 la luna è in fase calante sorge alle 21 e 09 e tramonta alle 11 e 54 di venerdì e infine le previsioni del tempo domani su Alpi e Prealpi Lombarde cielo sereno qualche velatura sui settori prealpini e progressivo aumento della copertura in serata temperature in diminuzione e con questo è tutto grazie per averci seguito e buona serata grazie per averci seguito